benvenuto nella rubrica per l'act per iniziare la tua settimana in modo consapevole e significativo con la mindfulness e l'act avete mai sentito il detto per ogni gaudenza ci vuole sofferenza ricordo che nella famiglia di mio papà quindi anche mia zia mia nonna lo ripetevano spesso quindi come dire che ti dovevi impegnare anche sforzare faticare ed eventualmente anche soffrire se volevi raggiungere qualcosa che fosse importante, significativo o insomma quello che desideravi e l'ho sempre vissuto un po' come qualcosa di pesante, oppressivo non ne vedevo il lato positivo diciamo così di questo detto quindi nell'arco del tempo anche forse conoscendo l'act ho rivisitato questo detto e te lo propongo nella per l'act di oggi il dolore emotivo è l'altro lato della medaglia della felicità quindi cosa vuol dire? non che dobbiamo sempre per forza soffrire per avere qualcosa per avere o vivere qualcosa che ci piace o a cui teniamo ma è vero forse il contrario che quando teniamo a qualcosa può anche capitarci di soffrire nel senso che se a qualcosa non teniamo se non ci interessa niente di un determinato oggetto di un aspetto della nostra vita di un rapporto, una relazione, una conoscenza con un'altra persona allora non soffriamo non ci interessa, non ne siamo né felici né proviamo sofferenza non abbiamo quindi nessun tipo di sensazione, sentimenti, emozioni né spiacevoli né positivi quindi neutri non mi interessa, non ne soffro invece quando c'è qualcosa che per noi è significativo o importante per cui quindi possiamo anche provare la felicità quando otteniamo un risultato quando c'è una relazione che conta per noi e quindi ci sono dei momenti in cui proviamo gioia benessere, soddisfazione è qualcosa che conta per noi di valore significativo e quindi può essere che in determinati momenti quindi l'altro lato della medaglia sia anche eventualmente provare dolore emotivo, sofferenza quando questa cosa che ci piace, ci interessa non la possiamo avere non la stiamo più avendo è in pericolo è lontana tutto quello che per noi è significativo ci procura due lati della medaglia la felicità quando abbiamo questo oggetto quando stiamo vivendo questa relazione o questo aspetto della nostra vita quando o non lo stiamo vivendo o è in pericolo o diciamo così è minacciato ecco che allora possiamo provare dolore emotivo quindi se c'è qualcosa che conta per te oggi e nella tua settimana considera che potresti provare entrambe le emozioni a questo riguardo entrambi gli stati emotivi così come considera che se nell'arco di oggi e di questa settimana e poi della tua vita in generale ti dovessi trovare a provare sofferenza o dolore emotivo significa che lì c'è qualcosa che conta per te lì c'è qualcosa di importante e se tu riesci a individuarlo a riconoscerlo qual è la cosa di cui hai bisogno che ti manca o che è minacciata o che è in pericolo in quel momento ecco che allora sai cosa in cosa ti puoi concentrare in cosa ti puoi impegnare per coltivarla quindi per fare qualcosa a riguardo e poter anche provare felicità a riguardo non è tutto sotto il nostro controllo lo vedremo nella prossima per l'act però per quello che possiamo fare noi che è significativo per noi quando proviamo sofferenza o dolore emotivo chiediamoci cosa c'è l'importante per noi in questo quindi da questo lato della medaglia c'è il dolore emotivo di là ci potrà essere la felicità ok cos'è che conta per noi in cosa ci possiamo impegnare oggi o domani o questa settimana per coltivare ed eventualmente puoi anche raggiungere ottenerlo e provare felicità grazie a tutti